Per l'Arezzo questo è un inizio di campionato che rispetta le attese della vigilia. Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, testa della classifica anche se in coabitazione con il San Donato Tavarnelle. La squadra di Mr. Mariotti ha grandi qualità, è stata costruita per vincere il campionato, praticamente perfetta tra centrocampo e attacco. Qualcosa però non convince del tutto in fase difensiva. Domenica scorsa contro il Foligno in casa, tre errori imperdonabili che hanno rischiato di compromettere una gara a lungo dominata sul piano del gioco. È statisticamente provato che le squadre che vincono i campionati di reti ne subiscono poche. La mentalità del farne sempre uno e ne più dell'avversario difficilmente ripaga. Fin qui in diverse occasioni Colombo, il giovane portiere amaranto, ha tolto le castagne dal fuoco facendo passare in secondo piano lacune difensive che destano non poche perplessità. Il problema però è tattico. La fase di copertura alla quale deve partecipare tutta la squadra non funziona come dovrebbe. Domenica prossima l'Arezzo farà visita al Follonica Gavorrano, squadra ben allestita dall'esperto direttore sportivo Pippo Vetrini. Dieci punti in classifica, tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Una squadra ostica che non molla mai, lo dimostra il pareggio riacciuffato nel finale contro il San Donato. Un 3 a 3 che certifica la qualità di una squadra destinata a recitare un ruolo da grande protagonista. Per l'Arezzo è il primo big match, quello che ci racconterà quale rotta verrà seguita. Una vittoria in terra maremmana sarebbe un segnale forte, l'acuto di una squadra che vuole riconquistare la Serie C dopo averla persa in maniera ingloriosa. Sono solamente due i precedenti fra Follonica Gavorrano e Arezzo. In entrambe le circostanze terminò con un nulla di fatto 0 a 0. Si prepara un esodo massiccio di tifosi amaranto, la richiesta di biglietti è molto alta, la disponibilità dell'impianto nel settore ospiti si aggira intorno agli 800 biglietti. In Serie D poche squadre possono avantiare un seguito così numeroso.